90 miliardi di dollari per rinascere dalle macerie, mentre attorno la devastazione totale, come un terremoto violento, che si chiama ISIS, sia adesso dopo le violenze, lascia dietro di sé una scia di rovine. E il volto attuale dell'Iraq, il 30% del paese, tutto così, stravolto dal califato, ponti, strade, aeroporti, ospedali, scuole, moschee, soprattutto case, tutto da ricostruire. A due mesi dall'annuncio della vittoria sullo Stato islamico, in Iraq, donatori e investitori internazionali si stanno ritrovando per la conferenza sulla ricostruzione. Abbiamo perdite fino a 50 miliardi di dollari, spiega il portavoce del primo ministro iracheno, aggiungendo che almeno la metà, 25 miliardi di dollari, servono subito per rimuovere tutte le macerie. Gli Stati Uniti fanno un passo indietro, non intendono finanziare per intero questo neopiano Marshall, a pesare la politica di Trump contro i cosiddetti paesi canaglia, che secondo la logica del Taicon non starebbero collaborando nella lotta al terrorismo. Ma in ballo, non dimentichiamolo, ci sono soprattutto le succulenti risorse petrolifere locali, comprese quelle dei paesi confinanti, come l'Iran. Perciò è decisivo il ruolo dell'Arabia Saudita, schierata adesso contro Teheran. Non ultimi si possono dimenticare tre decenni di guerre, dai conflitti degli anni 80, passando per la prima guerra del Golfo del 90, fino alla caduta di Saddam. Sono cioè 37 anni che Baghdad vive in un continuo tira e molla fra distruzione e ricostruzione.